La vita di ogni uomo è fatta di scelte e la scelta di un artigiano è fatta di passione. Una passione che lo guida in tutti i suoi gesti, ricercando se stesso nel frutto del proprio lavoro. È in nome di una passione che l'artigiano crea, ricerca e sperimenta. Ed è in nome di una passione che l'artigiano ripensa al suo passato, immaginando il suo futuro. Parquet Specialist. Oltre dieci anni di passione per il parquet. Grazie per la visione.